Batteria acustica ed elettronica primo acquisto di Andrea Jett. È pensiero comune che un batterista debba dapprima iniziare con un allenatore in gomma o plastica su cui esercitarsi con i primi rudimenti, per poi passare successivamente ad un vero rullante oppure ad una batteria completa. Ma questa è una considerazione del tutto soggettiva, innanzitutto è necessario stabilire se l'attitudine allo strumento sia concreta o se si tratta solo di un interesse passeggero. Una batteria completa è certamente uno stimolo maggiore nel creare i presupposti per diventare un giorno un bravo batterista musicista. Nell'acquisto di una batteria acustica è essenziale considerare il materiale utilizzato per la realizzazione dei fusti che determina dal 25 fino al 40% il suono del tamburo. La scelta è ampia ed in continua evoluzione a seguito dell'introduzione di nuovi materiali, fibre plastiche, metalli e legni esotici. I più usati per i fusti sono il legno multistrato, che è anche il più economico. La betulla, molto vivace e sonora, che conferisce maggiore volume e proiezione al suono. Il mogano, un po' più economico della betulla ma oltremodo vivace. Il palissandro, scuro, denso e quindi dal tono più caldo. L'eucalipto, eucaliptus, attualmente integrato in strati insieme ad altri legni per le sue caratteristiche di risonanza, economicità e facilità di lavorazione in strati più sottili. Il faggio, birch, la quercia, oak ed altri, fino ad arrivare all'acero, maple. Uno dei più costosi e ricercati, che produce un suono più scuro, caldo, controllato, meno vivace della betulla ma più semplice da intonare. Bisogna inoltre valutare l'ingombro dello strumento, due metri per due circa, e il fattore rumore, soprattutto se non si possiede un locale insonorizzato. In alternativa all'acquisto di una batteria elettronica, esistono in commercio delle speciali pelli, realizzate da una struttura traforata a griglia in tessuto sintetico che applicate sui tamburi stessi e ne riducono totalmente il volume. È possibile quindi sostituire le pelli in dotazione con un set di pelli sintetiche per poter suonare anche in un appartamento. Simile rimedio esiste anche per i piatti, tramite sordine di gomma, applicabili al piatto stesso. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con i piatti silenziosi. Low Volume Symbols, costituiti da piatti di metallo, solitamente nickel, completamente bucherellati, che riducono il volume complessivo dell'80%. Ce ne sono in commercio di varie marche, come Ziljn, WHD, Millennium.